Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 News, apertura con la politica. Ieri sera l'annuncio della segretaria del PD Eli Schlein sulla candidatura alle prossime elezioni europee del sindaco di Bari Antonio De Caro durante la trasmissione. Schlein ha parlato anche delle polemiche sollevate in questi giorni sul caso che sta interessando il capoluogo pugliese. Vediamo. Antonio De Caro sarà uno dei candidati del Partito Democratico alle elezioni europee il prossimo 8 e 9 giugno. L'annuncio è della segretaria Dem Eli Schlein intervenuta ieri sera sulla 7 nella trasmissione televisiva di martedì. Uno dei più bravi sindaci d'Italia ha dichiarato Schlein parlando del presidente Anci e primo cittadino di Bari. Confermati quindi i rumors che volevano De Caro candidato alle europee al termine del suo secondo mandato nel capoluogo pugliese. E proprio sul caso Bari la segretaria del PD è intervenuta per sottolineare l'impegno di De Caro contro la criminalità organizzata. Nella foto che ritrae il primo cittadino in compagnia della sorella e della nipote del boss Capriati, Schlein ha puntualizzato che come già chiarito il caso è stato sollevato riguardo a una foto scattata a una festa di San Nicola. Succede che tanti ti chiedano un selfie, ha proseguito. Mi sembra sia accaduto anche con altre foto di politici che hanno dovuto poi dare spiegazioni. Salvini con un capultrà o Meloni con uno del clan Spada. La segretaria del PD ha poi fatto scudo anche sul presidente pugliese Michele Emiliano, tornando sulle dichiarazioni del governatore che lo scorso sabato hanno infuocato il dibattito politico cittadino e non solo. Io non avrei detto quelle parole, non avrei fatto quel passaggio, però chiaiamo che Michele Emiliano ha concluso, è un magistrato e ha sempre lavorato per mettere in carcere i mafiosi. Sul caso Bari è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani per chiarire la linea del governo. Intanto ieri in Consiglio dei Ministri informativa del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Non ho mai chiesto il commissariamento di De Caro. Il problema riguarda la società dei trasporti che è stata commissariata dal Tribunale per infiltrazioni mafiose e il ministro dell'interno ha deciso di verificare cosa è successo, di verificare gli atti. Così il vicepremiere e ministro degli esteri Antonio Tajani, al cavallo della torre su Re 3, ha voluto chiarire la linea del governo rispetto alla giunta di Bari e al suo sindaco. Intanto ieri nel corso del Consiglio dei Ministri il titolare del biminale Matteo Piantedosi ha svolto un'informativa sul tema degli accessi ai comuni e dello scioglimento degli enti locali, con una ricognizione sui provvedimenti adottati negli ultimi anni dopo il caso Bari. Nell'informativa Piantedosi ha spiegato che al ministero dell'interno è stata ricevuta una delegazione di parlamentari di centrodestra così come è stato ricevuto il sindaco di Bari Antonio De Caro, al quale nei giorni successivi è stato anche anticipato per correttezza la decisione di avviare l'accesso ispettivo. Lunedì scorso si è insediata la commissione di indagine nominata dal prefetto di Bari, composta da un prefetto in cui è scienza, da un vice prefetto e da un ufficiale della Guardia di Finanza. Tutti i membri con esperienze specifiche in tema di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiosi, ha fatto sapere Piantedosi. Il loro lavoro durerà tre mesi, prorogabili per altri tre. Nel corso della riunione, a quanto si apprende, è stato deciso lo scioglimento di due comuni nella Vellinese e sono stati prorogati alcuni commissariamenti. Andiamo alle regionali lucane, proseguo in quest'ora la presentazione delle liste da parte delle diverse coalizioni, sopra il luogo intanto del ministro Salvini questa mattina sulla potenza Melfi. Sentiamo. Anche il ministro dei Trasporti e il leader della Lega Matteo Salvini è tornato in Basilicata per sostenere la candidatura di Vito Bardi alle regionali del 21 e 22 aprile. Dopo l'evento elettorale di Martedì a Matera che ha lanciato i candidati del Caroccio in Basilicata, mercoledì mattina una visita nel territorio di Avigliano per un sopralluogo sul nuovo tracciato della potenza Melfi, dove Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni sui prossimi appuntamenti elettorali. Per quello che mi riguarda, squadra che vince non si cambia, detto, né in regione né al comune di Potenza. Nel capologo lucano si voterà a giugno e c'è l'intesa per il guarente bis. Nuovi appuntamenti elettorali anche per il centrosinistra che dopo il lancio di ieri a Potenza della candidatura del presidente Piero Marrese oggi ha presentato le liste del Partito Democratico e della civica Basilicata Unita. È un PD ricompattato, abbiamo scontato il ritardo con cui questa unione si è concretizzata, ma ritengo che questa sia la migliore alleanza che si poteva fare. Ottima anche se è arrivata tardi e che raccoglie tutti i progressisti e riformisti di Basilicata. Così il segretario Dem, Giovanni Lettieri, in conferenza stampa. Giovedì intanto sarà la volta di azione che attende la visita del vice segretario Ettore Rosato. Volt, con il candidato Eustachio Collia, comunica invece attraverso i social, mentre gli altri i partiti si occupano di postazioni. Noi prepariamo il programma, abbiamo un progetto anche per la sanità, sottolinea Follia, che propone di utilizzare le ingenti risorse dell'immigrazione sanitaria per migliorare gli ospedali lucani. Su richiesta della Filcams CGL di Matera, oggi la regione ha convocato un incontro con la società HRG Italia in conseguenza dell'annunciata chiusura della sede di Matera e il trasferimento a partire dal prossimo primo aprile, scrive la Filcams, dei 20 dipendenti presso la sede centrale di Cormano. Nei giorni scorsi sempre la Filcams aveva richiesto alla società di spostare di almeno un mese la data di trasferimento per i dipendenti per provare a ricercare soluzioni alternative. Ma con questa azienda, scrive la Filcams, ha comunque ribadito che non è in discussione la decisione della chiusura degli uffici di Matera. Intanto la Filcams ha innescato uno sciopera d'oltranza in risposto all'annuncio di questa chiusura di questa filiale di HRG Italia. La valorizzazione delle acque reflue al centro di un incontro organizzato a Ferrandina in provincia di Matera. A Ferrandina in provincia di Matera nella sala consigliare del comune l'incontro 20 anni di attività presso il sito di Ferrandina dal passato al futuro della ricerca per la valorizzazione delle acque reflue. All'incontro organizzato dal comune di Ferrandina, Università degli Studi della Basilicata, Centro Ricerca Eni CNR, Ipazia ad Alessandria hanno partecipato i rappresentanti di istituzioni e centri di ricerca che a vario titolo hanno contribuito e supportato le attività di ricerca sul sito sperimentale di Ferrandina, uno dei riferimenti nazionali sulla tematica della valorizzazione delle acque reflue tra cui per il CNR. Il direttore è Mauro Centritto con un intervento sul centro di ricerca congiunto Eni CNR, Acqua e Pazia ad Alessandria e Claudio di Iaconi sulle nuove attività di ricerca programmate sul sito di Ferrandina e Pazia ad Alessandria. L'incontro è stato promosso con l'intento di avviare un importante momento di riflessione sulle problematiche legate alla valorizzazione della risorsa acque reflue e di rilancio delle attività sperimentali sul campo per giungere all'applicazione su ampia scala dei risultati della ricerca svolta in oltre vent'anni di attività. Ultima pagina, ieri a Matera la presentazione del libro Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Non esistono soltanto le guerre raccontate dai canali di informazione mainstream, esistono tantissimi altri conflitti altrettanto sanguinari di cui si conosce poco o nulla. L'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, giunto alla sua dodicesima edizione, si pone come obiettivo proprio questo, tenere il punto sui tanti focolai presenti sulla pianeta, aggiornando ogni anno l'elaborato, ma anche il sito internet dedicato, grazie al lavoro incessante dell'Associazione Culturale 46esimo Parallelo, coordinata dal giornalista Raffaele Crocco e dal supporto di tante altre organizzazioni internazionali. La presentazione del testo a Matera ha interessato due contesti, l'Università degli Studi della Basilicata, rivolto agli studenti, e Palazzo Malvini Malvezzi, aperto al pubblico. L'iniziativa è stata organizzata da Onix Libro, con il Comitato per la Pace di Matera, e ha goduto del patrocinio di Unibas e Provincia. L'Atlante dedica quattro pagine a ciascuna delle guerre, un principio che sta dalla parte delle persone. Noi parliamo di 31 guerre e 25 anni di crisi, e il principio che abbiamo è di parlare di tutte le guerre nello stesso modo, cioè con lo stesso numero di pagine, sono quattro pagine per ogni guerra, e in rigoroso ordine alfabetico per appartenenza di continente. Questo per non dare più importanza, maggiore importanza a una guerra rispetto all'altra, e certamente parliamo di guerre che sono pressoché sconosciute. Ad esempio noi parliamo da sempre delle guerre nelle Filippine, che voglio dire da 60 anni si uccide, eppure nessuno ne parla. Con noi per realizzare questo progetto lavora l'UNHCR, l'ONU, Amnesty International, InterSource, Larci, insomma tutta una serie di gruppi e associazioni, ANWCG, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, insomma tutte gruppi e organizzazioni che davvero sono interessate a costruire una cultura differente rispetto alla guerra. Ieri a Matera, i neri per caso, in concerto. Hanno conquistato il cuore degli italiani nel 1995 grazie al brano Le Ragazze, con il quale vincono nella sezione nuove proposte il Festival di Sanremo. Da allora in avanti, neri per caso, hanno rappresentato nell'immaginario degli italiani i cantanti di musica a cappella per eccellenza. Nel corso della loro carriera hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani, tra questi Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi e stranieri come Bob McFerrin. A Matera il concerto, organizzato dall'Orchestra della Magna Grecia e aperto dall'LA Chorus, ha tratto un buon numero di spettatori che è stato aglietato da alcuni dei loro più grandi successi, ma anche da importanti brani della musica nazionale ed internazionale, tra questi i diversi successi dei Beatles. O il brano Donne di Zucchero, con il quale partecipano a Sanremo, giovani, nella 1994. Ciro, come si rinnova lungo gli anni la bellezza di questa esperienza vocale di amicizia? Amando la musica, fondamentalmente cercando di fare sempre qualcosa di stimolante, di diverso. Devo fare i complimenti davvero a questa città perché aprire la finestra e il panorama che si ha su un patrimonio dell'UNESCO ormai, devo dire che è mozzafiato davvero, c'è un'emozione unica, vi faccio i complimenti perché voglio vivere a Matera. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, linea alla regia.